Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, martedì 25 agosto. Il sole sorge in Puglia alle 6.12 e tramonta le 19.37, in Basilicata sorge sempre alle 6.12 e tramonta le 19.45, in Molise sorge alle 6.15 e tramonta le 19.51, la luna sorge alle 12.03 e tramonta le 21.51, la fase lunare è la luna nuova. Oggi la Chiesa festeggia San Ludovico, re di Francia. Luigi IX, sovrano di Francia, nacque il 25 aprile 1214 in Poissy, incoronato re di Francia. Luigi si assunse il compito, davanti a Dio e agli uomini, di diffondere il Vangelo. Nel 1244 fu sorpreso da una fortissima febbre. Guarito, volle di persona guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa. Sbarcato in Egitto, presso la città di Damietta, attaccò con successo i Saraceni. Ma una terribile pestilenza decimò l'esercito crociato, colpendo lo stesso re. Ha salito nuovamente dai turchi e venne sconfitto e fatto prigioniero. Dopo essere stato rilasciato, proseguì come pellegrino per la Terra Santa, dove compì numerose opere di bene. Tornato in Francia, governò con giustizia e cristiana pietà, fondando la Sorbonna e preparando una nuova crociata. Ma a Tunisi una nuova epidemia colpì l'esercito. Luigi IX, sentendosi morire, si fece adagiare con le braccia incrociate sopra un letto coperto di cenere e cilicio, dove spirò. Era il 25 agosto del 1270. Oggi inoltre ricordiamo San Giuseppe Calasanzio e San Teosebio di Roma. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'annunciatrice e personaggio televisivo Maria Giovanna Elmi, che compie 69 anni, alla parlamentare leccese Adriana Polibortone, che compie 66 anni, al regista e sceneggiatore statunitense Tim Burton, che ne compie 51. E infine al modello e attore israeliano Raz Degan, che ne compie 41. Cosa è accaduto il 25 agosto? Nel 1609 Galileo Galilei presenta il suo primo telescopio al Senato di Venezia. Nel 1923 a Casella, in Liguria, viene trovato un tesoro di 3.000 monete databili tra il IV e il I secolo a.C. E nel 2001, in Germania, a Dusseldorf, un'equipe di medici riparano il cuore danneggiato da infarto di un uomo di 46 anni con cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Oggi a San Nicola, nel Leccese, potete apprezzare il Festival DECO 2009 Giardini e Ville di San Nicola. L'obiettivo del Festival è quello di valorizzare e rendere fruibili le fastose ville e dimore storiche costruite tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, che insistono sul nostro territorio. È un'occasione per residenti e turisti per godere della nostra storia, attraverso visite guidate dove i proprietari spalancano le porte di luoghi a volte inaccessibili. Tutto a partire dalle 17.30 con Raduno in Piazza della Repubblica. Siamo amanti del fai-da-te e a questo dedichiamo buona parte del nostro tempo libero. Una cosa però continua a sfuggire alla nostra abilità. Ogni volta che usiamo il gesso per rimettere a posto piccole crepe o buchi sul muro, si asciuga con una rapidità tale da impedirci di lavorare come vorremmo. Un piccolo trucco e aggiungiamo all'impasto un po' di aceto. Viceremo la nostra lotta contro il tempo. Ed ascoltiamo cosa suggeriscono le stelle per oggi. Ariete. Affidatevi al buon senso, evitate i cambiamenti repentini, eventuali discussioni con colleghi o collaboratori, proprio per non attirare attenzione indesiderate e malevoli critiche. Toro. Cosa vi sta succedendo? Da un lato desiderate stare tranquilli e godervi una romantica situazione di coppia, dall'altro la compagnia degli amici vi sembra altrettanto interessante. Gemelli. Capaci di anticipare le mosse degli avversari, sarete vincenti su tutta la linea. Un elemento di successo sul lavoro sarà il vostro modo di comunicare garbato e rispettoso. Cancro. Tenete gli occhi bene aperti sull'amministrazione dei beni familiari per non commettere imprudenze. Tenete a freno l'impulsività in campo amoroso. Leone. Se vi verrà fatta una proposta di lavoro collegata ad un viaggio o un trasferimento, non tiratevi indietro. Sarà intensa anche la serata da vivere a stretto contatto con la persona amata. Vergine. Potreste vincere una scommessa tra amici o fare chiarezza in una questione, magari familiare, che ha creato qualche tensione e preoccupazione negli ultimi tempi. Bilancia. Tenete a freno la voglia di spendere. Chiarite sul nascere una questione in cui il partner fate chiarezza nella vostra mente. Occupatevi del vostro benessere. Scorpione. Vi verranno brillanti idee su come organizzare il vostro lavoro, migliorare le vostre entrate e rendere ancora più entusiasmante l'intesa con la persona amata. Ora sagittario. Saprete conquistarvi un posto al sole nella compagnia di amici, con i quali trascorrerete una serata indimenticabile. Gli astri consigliano un giro per locali oppure spettacoli. Capricorno. Le questioni finanziarie saranno in primo piano a causa di spese inaspettate oppure di quattrini che non entreranno nella quantità desiderata nelle vostre tasche. Acquario. Entusiasmo e creatività sono le armi privilegiate di questo momento che vi consentono di porre le basi per un successo sociale, professionale o finanziario. Infine, il segno dei pesci. Anche se l'atmosfera familiare sembra tranquilla, provate un'inspiegabile insoddisfazione interiore. Un po' di svago, un po' di evasione, alletterà la tensione. Ed ora spazio alle parole del nostro proverbio del giorno. Ogni promessa è debito. Io vi ricordo che l'almanacco del giorno torna su Antenna Sud anche domani mattina e che per contattarci basta scrivere alla nostra posta elettronica almanacocchiocciolantenasu.com Arrivederci.